lo so lo so ragazzi con un lotto così è difficile mantenere i piedi per terra guardate qui siamo su un lotto edificabile dove possiamo realizzare diverse situazioni qui è il luogo dove potete costruire la casa dei vostri sogni dovete solo contattarci e prendere un appuntamento in ufficio per farvi visionare le varie tipologie di soluzioni ma adesso basta inquadrare me fai vedere la vista Grazie a tutti